Il sindaco Ferrara e l'assessore della penna commentano la richiesta di documentazione da parte della Corte dei Conti. Indagine dovuta visto il dissesto dell'ente, dicono. Il PM chiede informazioni sugli stipendi di sindaco e assessore al bilancio. I magistrati contabili puntano a individuare i responsabili del tracollo finanziario con un maxibuco da 74 milioni di euro. Nei mesi scorsi erano già stati chiesti i dati relativi all'ex primo cittadino e alla consigliatura in carica dal 2015 al 2020. Da parte nostra confermiamo la massima collaborazione, cosa che non è mai mancata in questi anni, sulla situazione contabile del Comune di Chieti. L'indagine della Corte dei Conti è un atto dovuto a fronte del dissesto. Il nostro lavoro continua con grande assenso di responsabilità nei confronti della città e verso le difficili condizioni dell'ente di cui abbiamo avviato il risanamento. Così il sindaco Diego Ferrara e l'assessore al bilancio Tiziana della penna commentano la richiesta di documentazione da parte della Corte dei Conti. In questi tre anni è documentato il nostro lavoro sin dal tentativo doveroso di risanamento esperito attraverso il piano di riequilibrio, ricordano. Un impegno che si è rafforzato a seguito del dissesto dopo la sentenza emessa dalla Corte dei Conti l'anno scorso, perché vogliamo vedere la città risollevata dalla situazione difficile in cui si trova. Un lavoro che è andato avanti per risolvere i tanti noti chiusi da anni sul futuro della città e dell'ente, che con grande dedizione stiamo cercando di sciogliere fra mille difficoltà quotidiane, come le cronache di questi tre anni dimostrano e come abbiamo cercato di raccontare attraverso scelte e atti complessi che abbiano dovuto mettere in campo. La nota del Comune prosegue. Infine, confidiamo nell'azione di verifica che è dovuta su chi oggi amministra la cosa pubblica, con l'auspicio di vedere riconosciuto un impegno che da ottobre 2020 è diventato prioritario nelle nostre vite politiche e non solo in quelle, restituire a Chieti un presente e un futuro migliori con la consapevolezza di quanto sia difficile questo intento, ma anche di quanto sia irrinunciabile proprio per le condizioni in cui si trova l'ente.